Pianeta Terra, terzo millennio. Il regime tecnocratico instaurato dalla Confederazione Planetaria ha relegato la popolazione del pianeta a vivere all'interno di case bunker. C'è un solo mezzo per entrare in contatto con il mondo esterno. La televisione. Catacchè? Catatodizzato! Dopo un'ora che quello guarda la televisione non capisce più se è lui a guardare la tv o se è la tv a guardare lui. Forza, spegnilo! Giacomino! Giacomino! Giovanni! Qui Giacomino non si spegne! Per forza, devi fare in modo che i raggi ionizzati si disassemblino nei circuiti sinaptici, originando un metaprocesso parapsifeco ontapaletico interotemporale ocipitale. Ah sì? E come si originerebbe questo metaprocesso paragenico per il condotto ptero o pdattile? Aldo, basta dirigere il telecomando su di lui, no? Ma sei scemo? Lo sai che potevi procurarmi una lesione cerebrale? Eh, quante storie, però una neurostimolazione distonica. Ringrazio il cielo invece che non ti ho rimosso i gruppi metaendocelafali. Se sarebbe a dire che avremmo potuto rimuovere i centri parapsivegetativi. Filamenti parapsicovegetativi, eh? Ma vai a cagare. Dove siete, bastardi? Bastardi, dove siete? Rispondete! Mi, ragazzi, un orribilante retrovirus si è impossessato del sistema. Presto! Dobbiamo lanciare l'antivirus! Ma quale antivirus? Sarà uno di quelli che vuole venderci qualcosa in rete. Senti, Ciccio, bussare no, eh? L'educazione dove l'hai dimenticata? In qualche interfaccia parallela? Dove siete, bastardi? Rispondete! Maria, due minuti che lo conosco e già lo odio! Inserite la sequenza segreta, presto! Dai, su, lascia fare a me che sono il re dei pirati informatici. F1, Alt, Block Score, Control, Cancell, Par... Ehi, re dei pirati informatici, secondo me era il block scorrimento che non funzionava. Eh, vabbè, ho detto che sono il re, mica il dio dei pirati informatici. Ma io pensavo che se schiacciavi Enter... Eh, pensavo, che parole grosse! Con quel cervello così piccolo, quando due pensieri si incontrano, devo fare pure manovra. Eh, vabbè, vediamo un po' cosa succede se schiacciamo Enter. Hola, bravo Aldo! Per fortuna che tra voi tre c'è almeno uno in grado di ragionare. Adesso posso spiegarvi la missione. Di quale missione parli? Tutti noi possiamo comunicare solo attraverso la televisione. Solo così la Confederazione riesce a inibire le nostre menti e assorbire le nostre energie. Mediante processi di catodizzazione. Il processo parafisico dei circuiti nanocefalici dei filamenti parapsicovegetativi. Certo che quando Dio ha distribuito i cervelli, Teddy deve aver confuso con un cactus, eh? Esatto! Tramite questo processo, infatti, il sistema centrale della Confederazione controlla le menti, ma non le emozioni. Proprio per questo ha inibito qualsiasi accesso in rete a tutti i tipi di divertimento, compresi i videogiochi. Miii, non ci posso credere, meschino, perfino i videogiochi! C'è solo un modo per sconfiggere il sistema. Bisogna riuscire a ricongiungere i cinque elementi in grado di dare vita tramite un processo nanotecnologico al supereroe che restituirà la felicità a tutto il pianeta. Questi cinque elementi sono custoditi all'interno del sistema centrale. E chi sarebbe in grado di ricongiungere i cinque elementi? Voi, naturalmente, dovete sfidare il sistema, ricongiungere gli elementi e dare vita allo zero No, no, aspetta un attimo, adesso basta, non c'è più tempo. Preparatevi ad essere caricati in rete. Minucidio. Mi, che roba! Dove siamo finiti? Siamo sicuri che il numero civico è quello giusto? A quale numero civico? Adesso cosa facciamo, invece? Ma, forse dovremmo vedere se c'è qualcuno che ci può aiutare. C'è nessuno! C'è nessuno! Io osa interrompere l'eterna quiete dell'onnipotente Pthor, figlio di Khmer, della tribù di Ishtar, il custode dei sacri sigilli di Gumbapar, colui che ha osato violare la castità delle vergini Nzorg, il più grande dei sette sapienti di Urg, Khmer Zarer Farar Argapanen Urtar Farer? Quale audace oppositore, risvegliando dal suo sacro letargo, osa dunque sfidare ora l'implacabile furia di Pthor? Voi, come osate voi piccole creature mingerlinoformiche presentarvi al mio cospetto? Siete sicuri di voler sfidare la potenza di Pthor? E sia, alzatevi or dunque! Chi è il prescelto per la prima sfida? Or dunque tu, essere microsomatico, avvicinati! Senta, signor Pthor, ma di quale sfida sta parlando esattamente? Voi avete osato sfidare l'onnipotenza di Pthor, e pertanto dovrete risolvere tutti i videogiochi che tengo imprigionati. Saranno cinque durissimi livelli. Se ci riuscirete, otterrete cinque elementi in grado di generare il famigerato zero comico. Senta, signor Pthor, e nel caso invece in cui non ci dovessimo riuscire? Se non ci riuscirete, vi rimuoverò i centri endocefalici parapsico-vegetativi. No, i filamenti psico-vegetativi no! Il metaprocesso parla del condotto Pthor, ma che ho fatto di male io? Basta, non perdiamo più tempo. Primo livello, il gioco delle origini. Mi, che viaggio! Credo di essere ancora nella fase rem. Mi, ma perché non tocca mai a me? Se fosse per quei due. Se fosse per quei due. Mi, ma perché non tocca mai a me? Mi, ma perché non tocca mai a me? Mi, ma perché non tocca mai a me? Dannazione! Bu, bu, ring! Mi, ma perché non tocca mai a me? Mi, ma perché non tocca mai a me? E se fosse per quei due. Bu, bu, ring! Grazie a tutti. 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 mi fuori. a tutti. 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 vediamo. a tutti. 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 questi. a tutti. 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 vediamo. a tutti. 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 vediamo. a tutti. 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 a tutti.